partiti e in vantaggio Guizzo Vincente davanti ad Ammen Angel, Darjeeling, Biografi e Tachenoir all'inizio della curva conduce Guizzo Vincente davanti a Ammen Angel, Biografi, Darjeeling e Tachenoir poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Guizzo Vincente davanti ad Ammen Angel, Darjeeling e Tachenoir i cavalli entrano in dirittura con Guizzo Vincente in vantaggio a centro pista davanti ad Ammen Angel, Tachenoir, Biografi e Darjeeling è sempre in leggero vantaggio Guizzo Vincente davanti ad Ammen Angel, Tachenoir a centro pista più staccati Biografi e Darjeeling in vantaggio Guizzo Vincente davanti a Tachenoir, Ammen Angel e Biografi passa Tachenoir davanti a Guizzo Vincente e Ammen Angel Grazie Grazie